Capernardi, poi ve lo fate raccontare da lui, Capernardi quest'anno cade il settantesimo dell'occupazione della miniera, quindi 70 anni fa la miniera venne occupata per difendere il posto di lavoro, una miniera di zolfo profonda a 800 metri e il 28 maggio del 1952 circa 300 minatori decisero di occuparla perché la Montecatini voleva chiudere la miniera e loro difesero il lavoro stando sottoterra per 40 giorni, uscirono il 5 luglio del 1952 e ci sarà questa ricorrenza per cui vi chiedo di prestare un attimino di attenzione quando leggerete sui giornali gli eventi che saranno messi in cantiere. Parto da qui per dire che ci fu una grande emigrazione da tutti questi sei o sette comuni che gravitavano intorno a Capernardi e i minatori furono mandati, quelli che non furono licenziati per rappresaglia, furono mandati sparsi in tutta Italia, dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta, al Trentino, ma il gruppo più numeroso fu mandato a Ferrara dove là la Montecatini costruiva un petrolchimico, petrolchimico che aveva bisogno di manodopera specializzata che c'era a Capernardi che costruì la fabbrica, poi producevano le materie plastiche quelle cose che avete voi davanti alla bocca, il polipropilene. Se non ci fosse il polipropilene non saremmo stati capaci di gestire la sanità e anche contrastare il virus. E' una sostanza che questi lavoratori che poi entrarono negli impianti dove Giulio Natta inventò questo materiale dietro il loro contributo. Torniamo indietro. Questa lotta è stata cantata in ottava rima da dei minatori, in ottava rima, gente che aveva fatto la terza elementare, soprattutto nell'abitato di Rotondo. Dopo quando uscirete, magari un giorno il professore apre la finestra e gli dice c'è il Monte Strega, lì dietro c'è il Monte del Doio, lassù c'è Rotondo, lì di fianco c'è il Doio, poi c'è la Sementana, sotto c'è il Percosone, di qua c'è il Cabernardi, di là c'è il Monte Rosso, tutte zone di osterie, tutte zone dove si trovavano questi minatori a festeggiare, a bere il vino e a sfidarsi e a cantare l'ottava rima, dove erano liberi di poter comunicare in versi la loro storia, la loro sconfitta, ma che non erano stati però cancellati. C'è un conto di essere sconfitti in una lotta, un conto invece di essere riusciti a mantenere viva la loro cultura. Uno di questi minatori che scrivevano in rima e che cantavano in rima fu Reste Crescentini, nativo di Rotondo, qui mentre partecipa alla conferenza dei minatori a Firenze, dove cerca di battersi per difendere il posto di lavoro. Frequentavano l'osteria di Moreggi, che era proprio il... avete visto Carpe Diem? Il film, cioè quando parlavano di poesia, il luogo dove lì covavano questa poesia. Ecco, e lì era il luogo dove si vendeva la pasta suta, no? Si vendevano i tabacchi, si vendeva l'uscito da scarpe, si vendeva il sale, le sigarette, ma si mesceva anche il vino. Era un'osteria dove si incontravano tutti gli amici che uscivano dalla miniera, insomma, che lavoravano lì. E questo poeta dovette emigrare nel 1954 e andò in Canada, perché appunto fu licenziato. Prima di partire per il Canada, insieme ad altri ex minatori licenziati, fece il rimboschimento del Monte del Doio, perché il Monte del Doio era pelato, pelato per i vapori solforosi che emanava la miniera. Beh, comunque i calcheroni erano delle montagne, molto grande come questa stanza, come questa stanza qui, di materiale che gli davano fuoco, perché col calore lo zolfo colava, venivano raccolti in panni stampati di zolfo di 50 kg, però emanavano la diride solforosa. A Cabernardi, nel territorio circostante, non c'era vigna, non c'era grano, non c'erano alberi, era tutto secco. Io mi ricordo quando ero bambino andava al cinema, quando il vento tirava verso il cinema, toccava scappare perché era una camera gas. Però a Cabernardi era un paese ricco, era un paese dove c'era i soldi, dove i minatori guadagnavano, dove i ragazzi quando andavano a ballare le madri gli presentavano i figli, dicevo questo qui lavora, c'è la pensione, c'è l'assistenza alla malattia. A Cabernardi era il paese più motorizzato d'Italia, c'erano tre gelaterie, sto parlando degli anni 30, 40, 50, c'era un paese vivo che però questa gente a 50 anni se ne andava. Io insieme a Date abbiamo costituito l'associazione Cristalli nella nebbia che ha curato la storia di questa immigrazione che è avvenuta a Ferrara, che è stata pubblicata in questo libro che lascio alla biblioteca dell'istituto. Adesso vi voglio leggere, io non sono un cantore come Marco Bettene, neanche nemmeno un improvvisatore, però vi voglio leggere alcune strofe della lettera che lui scrisse dal Canada a Toronto, solo, isolato a Toronto, dove non sapeva manco l'inglese, dove faceva la guardia giurata, di notte lavorava, di giorno dormiva, perché è dovuto emigrare appunto per mantenere la famiglia. Adesso io ve la canto, io vengo da, sono andato a Ferrara, che è la città dell'Ariosto, del Tasso, che hanno scritto l'Orlando Furioso, la Giusura M liberata, anche lì notte a Marino, ma sembra incredibile. E l'Ariosto, io a scuola quando lo leggevo, una rottura del palle, invece cantato, è spettacolare, è come se vedete un fantasy. Avete presente? Le donne, i cavali dell'arme, gli amori, le cui gloriose imprese io canto, è tutta un'altra cosa. E di fatti lui dice, l'Ariosto dice, se mi date orecchio d'attenzione, orecchio vuol dire sentire, no? Mica per legge. Quindi sentirla cantare all'Ariosto è tutta un'altra cosa. Adesso vi canto la prima strofe dei miei amici. Lui, dal Canada, sogna l'osteria dei Moresi. Ci fai vedere l'osteria stai. Ancora là dentro si sente l'odore del vino. Perché lì era... E lui in questa poesia incontra tutti i suoi amici, li fa parlare, li presenta, li prende in giro, li sfotte. Questo materiale lo lasciamo poi tramite le mail, ve lo consegniamo e lo fate leggere ai ragazzi. Perché veramente su questa poesia Stefano ha creato uno spettacolo. Era quella foto che c'era in prima... che vedevate prima. Quando alla sera da Moregia andate a bere un mezzo litro in compagnia, non so se più di me vi ricordate e se lasciate a me la parte mia. Voglio sperar che non dimenticate a chi si muore dalla nostalgia. Tanto vedo che Emma compre mura ogni tanto vi riempie la misura. Ai quante volte mi sento l'arzura di riabbracciarvi e stringervi la mano, come quasi una madre alla creatura che tanto tempo sia stata lontano. Lungi mi trovo dalle patrie mura e forse rivederle spero in vano. Ciò nonostante io vengo sovente fra mezzo a tutti voi con la mia mente. Sono 70 ottave, ma bellissime. Io quando l'ho vista sono rimasto incantato. Io, ti ripeto, non sono di questa materia, ma da allora mi sono appassionato. Perché questa persona, terza elementare, ha messo in piedi un racconto. Ma non solo questo, ma tanti altri, come suo fratello Natale che faceva il barbiere a rotondo che tosava non tanto i capelli, ma prendeva in giro i clienti. Di Natale purtroppo l'hanno vinte i sorci che si sono magnati tutto quello che lui aveva scritto. E questo è il barbiere a rotondo. Adesso io mi sto un po' emozionando, mi sto anche un po' perdendo. Però adesso se mi dite un po' dove devo riprendere il discorso. Ah, sulla questione del contrasto poetico che avvenne tra... Ah, dunque, qui nella poesia accenno a Moregi. Avete sentito? Quando da Moregi alla sera andate. Era il titolare dell'osteria. Moregi, che era emigrato in America nel 1921, torna nel 1936 a rotondo, alza la casa, l'alza di un piano, ci crea un'osteria, fa la gazzosa, la famosa gazzosa di Moregi, che la vendeva dappertutto, e crea il punto di riferimento dei paesini di intorno, di dentro l'osteria. E lui, sapete cosa facevamo a Esi di Mestieri? Faceva le fake news, le pappole, perché lui era stato in America. E lui inventava anche le parole. Americanizzava delle parole marchigiane, le offriva ai clienti. E i clienti ci credevano, io in America c'avevo un flauto, a parte il fatto che lui suonava un clarinetto, c'avevo un flauto, che quando lo tiravo fuori, zack, subito se innestava, e io lo suonavo. Ma poi c'avevo anche una motocicletta, che quando andavo forte, dietro c'avevo la ragazza, e si beccava una buga, lì saltava per aria, ma io mettevo la retromarcia, e lì cascava sul sellino. C'avevo una tromba, che quando la suonavo da Scranton, perché era soprannominato anche Scranton, mi sentivano fino a New York. Oppure chiamava i furbi, gli avventori, li chiamava, ma tu sei uno smarte. Sapete no che cos'è la smarte? Vuol dire birba, furba, scaltro. E non è una parola marchigiana. Oppure il calzolaio lo chiamava Schumega, dal termine Schumake, fare scarpe. Schumacher vuol dire scarparo, praticamente. E lui era un affabulatore. E tu ancora, quelli di Rotondo, anche se non sono più viventi, ma i figli ancora ricordano il modo di fare che aveva questo morreggio. Ecco, per dirti, il luogo dove... Noi ritorniamo, ogni anno ritorniamo a Rotondo, Stefano organizza degli spettacoli insieme a noi e facciamo rivivere. E lì c'è una passione incredibile rispetto alla tradizione di questo paese dato da questo minatore che scriveva in Ottava Rima. Allora, che succede? Occupano la miniera, occupano la miniera, Oreste occupa la miniera, lo va a trovare un suo amico che è di Percozzone, Toccaceli Francesco Detto Mariano. Erano amici avventori, insieme di sbocci, andavano in giro, andava una ragazza, eccetera, eccetera, e lo va a trovare, Toccaceli a Oreste. Oreste lo sa vicino ai canicelli, dice, Oreste, allora come va? Eh, come va? Chi tocca a lottare? E lo solito, io non ho saputo entrare perché non ero nel turno che avete deciso di occupare la miniera, che ho deciso con la parola d'ordine Coppi Maglia Gialla, che recentemente Graziano ha scritto un libro. Ma vai, che te frega, bocca al dentro lo va anche te, no? Bene, bene, lo va anche te, siete, c'è un compagno come noi, bene dentro, e Toccaceli, sentendosi appunto nell'orgoglio, ma certo, vengo anch'io dentro a occupare la miniera, è andato a occupare la miniera e poi dopo si è trovato anche lui licenziato per rappresaglia e quindi ha dovuto girare tutta l'Italia per cercare di mettere su le marchette per avere la pensione, però allora ritorna al paese desolato, non c'è più gli amici, le vigne non c'è più, tutto abbandonata perché la zona del Carbenardese negli anni 50 era una desolazione e lui a un certo punto cosa fa Toccaceli che anche lui scriveva un po' il rima ma era un po' sgrammaticato, non era proprio preciso come Oreste o Natale e gli scrive una decina di ottave in Canada a Toronto lamentandosi dice Oreste guarda qua come siamo ridotti forse non era meglio trovare un accordo a bozzare trovare un'altra soluzione perché qui è una disgrazia io ho fiole emigrati mi muoio che sta male io ho quella gamba rotta per l'infortunio di mira non c'ho più manco una lira gli amici non c'è più l'osteria è tutte vuote Oreste dal Canada questo avveniva negli anni 62-63 gli risponde con 50 ottave è un po' piccato dice te la venghi a piega con me ma pitla con chi ci ha tradito con chi ci ha abbandonato prendetela con la Montecatini prendetela con il governo ma non te la venghi a prendere con chi ha lottato no e lui gli risponde e quell'altro gli risponde è andata avanti due tre anni sta storia non c'erano le mail e hanno e l'abbiamo pubblicato questo racconto questo racconto in in un libretto adesso ma tu invece al contrario ti dibatti facendo il gioco e della reazione tra l'altre assurdità affermi di fatti che la lotta fu per ambizione se per tal ragion fu modisfatti sempre secondo la tua convinzione perché alla lotta tu hai partecipato se non eri convinto di essere ingannato hai amico come il tempo e t'ha cambiato da combattente fra le prime file quasi dall'altra parte e sei passato e contro i compagni tuoi volti il fucile certe parole mi hai disorientato e il cuore riempito da amarezza e bile tanto che quasi maledirmi fai l'ora è il momento che ti consigliai lo so che la tua colpa a me e non la dai ma dato l'insuccesso e della lotta io che fra gli esponenti mi trovai indirettamente me la dai una botta non dico di cantar sui nostri guai ma io non vò d'accordo e con chi fiotta del resto volontario tu sei stato e a guerreggiar nessuno t'ha forzato grazie a tutti